Martedì prossimo, 13 ottobre, ricorre la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Va purtroppo riconosciuto che gli effetti di tali calamità sono spesso aggravati da mancanze di cura dell'ambiente da parte dell'uomo. Mi unisco a tutti coloro che in modo lungimirante si impegnano nella tutela della nostra Casa Comune per promuovere una cultura globale e locale di riduzione dei disastri e di maggiore resilienza ad essi, armonizzando le nuove conoscenze con quelle tradizionali e con particolare attenzione alle popolazioni più vulnerabili.